Un 2019 da incorniciare, la prima stagione trascorsa nella categoria promesse Under 23 vissuta da protagonista. Titolo italiano sulla 10 chilometri a Canelli in provincia di Asti, Tricolore e Bissa Palermo sulla mezza maratona, medaglia d'argento a squadre ai recenti campionati europei di cross a Lisbona. Pasquale Selvarolo, ventenne, andriese, teserato con l'atletica Cassone Noceto Parma e allenato da Giovanni De Rocco, a validi motivi per essere soddisfatto. È stato un 2019 pieno di impegni, pieno di sfide, siamo riusciti a portare a casa parecchi risultati, grandi soddisfazioni e sono davvero molto contento perché penso che meglio di così questa stagione non poteva andare. È ovvio che c'è sempre qualcosa che si può migliorare, quindi magari non sono da 10 pieno, però mi ritengo almeno da 9 e mezzo. Parola d'ordine per il 2020 migliorarsi, sia a livello cronometrico, sulle distanze di sua competenza, sia in termini di risultati e spessore agonistico. L'esordio è fissato per il 31 gennaio a Modena sulla distanza dei 13 chilometri e mezzo in occasione della corrida di San Geminiano. Saranno le prove generali in vista dei campionati italiani di mezza maratona in programma il 16 febbraio a Verona, appuntamento in cui dovrà difendere il tricolore tra le promesse sulla 21 chilometri. Sarà un modo per testare questa prima parte di preparazione per capire un attimo se la strada che abbiamo intrapreso a livello di programmazione con il mio allenatore Giovanni De Rocco è quella giusta per programmare gli obiettivi importanti che però saranno nel periodo primaverile ed estivo. Non mancano nel mirino di Pasquale Selvarolo anche obiettivi extramazionali per il 2020, due in particolare i campionati del Mediterraneo Under 23 e la Coppa Europa dei 10.000 metri in quest'ultima competizione calendarizzata per il 6 giugno a Londra, punterà ad indossare per la prima volta la maglia azzurra della nazionale assoluta. Quella sarebbe un ottimo palcoscenico perché la nazionale assoluta è praticamente l'atletica dei grandi quindi potrebbe essere per me davvero un obiettivo da puntare e chi lo sa io non voglio sbarrarmi la strada, voglio vivere tutte le mie tappe con la consapevolezza di poter far bene e vediamo cosa riusciamo a portarci a casa.